pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati proseguiamo il nostro cammino nel vangelo secondo marco siamo a cafarnao nella casa dove gesù sta istruendo i suoi discepoli vi ricordo che i versetti che vanno dal 33 al 50 contengono degli insegnamenti che gesù rivolge alla comunità potremmo dire che un abbozzo della regola della comunità che matteo amplierà al capitolo 18 oggi vediamo la prima gesù che invita all'accoglienza giovanni è uno dei dodici che ha seguito gesù sin dall'inizio con pietro giacomo e andrea è il discepolo più giovane è stato manato in missione da gesù e ha ricevuto l'autorità di scacciare spiriti impuri di operare esorcismi giovanni vede uno che stava scacciando un demonio nel nome di gesù ma senza far parte della comunità della chiesa e vorrebbe impedirglielo avendo ricevuto il mandato da gesù non tollera che qualcun altro possa infrangere il suo monopolio verete fa parte della nostra natura umana la necessità di mettere confini a un gruppo a un territorio a un'istituzione di avere delle regole chiare sicuramente fatto in maniera sana aiuta a crescere nell'identità il problema è quando ci si chiude rigidamente e si fa dipendere la propria identità dai confini e ogni possibile variazione mette in crisi pensate ad esempio a chi va in tilt al minimo cambiamento di programma o che è bloccato nel si è sempre fatto così giovanni il discepolo più giovane sente il bisogno di stabilire rigidamente i confini e vorrebbe prendersela con chi non è dei nostri cioè giovanni miei cari è la voce chiara di quell'appartenenza rigida dei confini netti e distinti potremmo dire che qui la tentazione è quell'egoismo di gruppo quel senso di superiorità nel quale ci si rinchiude per sentirsi i meglio a livello di chiesa intera può essere la tentazione di pensare che lo spirito santo agisca solo nella chiesa ed io fuori non ho per i nulla a livello dei gruppi ecclesiali cammini o movimenti quello di sentirsi migliori degli altri perché noi facciamo questo e gli altri non lo fanno e diventare escludenti non inclusivi nel piccolo è la tentazione di sentirsi meglio dell'altro perché faccio qualcosa di più perché chissà cosa ho studiato insomma è la tentazione del confronto e dell'esclusione in virtù di una presunta superiorità quindi ripeto si vede qui con chiarezza quell'egoismo di gruppo quella meschina paura della concorrenza che spesso si maschera pure di fede ma che in realtà è una delle sue più profonde smentite potremmo dire che il discepolo puntiglioso e gretto mal sopporta che lo spirito santo soffi dove vuole ne è invidioso deve possedere lui il primato si sente smentito e tradito ma non dovrebbe lo spirito di dio essere solo nelle nostre mani così che appaia con chiarezza che noi ne siamo i portatori e questo a tantissime applicazioni pensate ma come io cammino da tanto ho chiesto questa grazia a dio e quello che neanche cammina gli è capitata a lui oppure io sono qui da tanto tempo e invece uno nuovo che arriva già è così generoso e mi sembra più avanti di me non è giusto ecco capite paletti nei quali ci siamo rinchiusi e incarcerati per crescere nell'identità più che chiudere confini a volte serve una revisione interna spesso i problemi interni vengono proiettati all'esterno spiego crearsi un nemico esterno a cui attribuire la colpa di tutto ciò che si soffre del disagio interno che si ha è un processo frequente un meccanismo automatico e inconscio è molto più faticoso e compromettente ammettere che qualcosa non va in me a casa nostra nella comunità è meglio trovare il colpevole esterno da accusare per sentirmi sgravato dal dovere di mettermi in discussione per questo gesù ci invita a rientrare in noi stessi e a vedere come va nel nostro cuore nella comunità se c'è troppa rigidità confini che escludono e non includono qualcosa non sta funzionando ci si sta chiudendo l'amore di dio è simboleggiato dalle sue braccia aperte sulla croce potremmo anche dire che in generale basterebbe guardare con un po d'attenzione e renderci conto che anche fuori dalla chiesa tanta gente fa del bene a volte forse pure più di chi è nella chiesa quindi gesù vedete ci invita ad aprire i confini il criterio di gesù non è esclusivo e inclusivo non è escludente ma accogliente non c'è bisogno di difendersi perché il bene può venire anche da chi è diverso da noi e dio può agire anche nel cuore di chi ancora non si è messo in cammino nella comunità ma nella sua sincerità ne astima rispetto lo sta cercando e prima o poi alla comunità arriverà gesù infatti innanzitutto dice non glielo impedite quando c'è di mezzo il bene il primo dovere e non impedirlo il secondo è alimentarlo e migliorarlo san beda diceva nessuno deve essere allontanato dal bene che in parte possiede ma piuttosto deve essere invitato a ciò che ancora non possiede san paolo addirittura citando nella lettere filippesi alcuni predicatori non onesti diceva purché in ogni maniera per ipocrisia o per sincerità cristo sia annunciato poi si tratterà chiaro di togliere l'ipocrisia ma intanto di non impedire l'annuncio perché cristo sia conosciuto questa è una regola bellissima anche per il nostro quotidiano anche nella vita di coppia nell'educazione dei figli non si parte mai dal negativo evidenziando ciò che non va ciò che uno non riesce a fare ma valorizzando il positivo è lì che sei invogliato a fare un passo in più per via continuamente critica accusatoria nessuno migliora è stimolando il bene ed è valorizzando il bene che uno compie che l'altro sarà invogliato ancora di più a farlo facciamo un paio di esempi simpatici il marito finalmente dopo tanta esistenza della moglie pittura a casa le pareti sono pitturate la moglie le guarda dice sì però quell'angolino avresti potuto farlo meglio ecco ovviamente la prossima pittura ci vediamo nel 6000 o viceversa la moglie che dopo tanto tempo fa l'amata torta al marito arriva la torta il marito è finalmente l'è fatta che è successo ecco se non gli arriva in faccia è una grazia oppure non so il figlio la figlia si decidono a mettere a posto qualcosa o fare una cosa in più beh che è successo oggi beh finalmente fatto il tuo dovere capite non si parte dal negativo dal sottolineare sempre ciò che non va ci nasce il cuore si parte valorizzando il positivo ringraziando per il bene fatto e stimolandolo ancora di più ecco tante persone ancora non sono arrivate esplicitamente a camminare nella comunità credente ma hanno una simpatia una stima per il signore noi dobbiamo aiutare queste persone a farne sempre più esperienza a valorizzare il bene che fanno e a trovare il modo di includerle non di escluderle però tu non vai tu non fai il bene si stimola chiediamo al signore che ci aiuti a spalancare sempre più le porte del cuore della comunità a chi è lontano a chi ancora non è parte e anche a chi abbiamo già accanto amandoci gli uni gli altri come il signore ci ama che dio vi benedica pace e bene a tutti